Solo moda si parlerà di Lisbona, una città che ha saputo cambiare volto senza modificare la propria anima, dove il passato si intreccia con il futuro. Con l'Expo 98 sarà inoltre la città più di moda d'Europa. Prima però vi ricordo che domani sera alle 21 e il ciclo filmissimi ci proporrà in prima visione TV il film a comico diretto da Carlo Vanzina, Silvano. Con Ezio Grigio, Leo Gullotta, Monica Scazzini, Cinzia Leone e Franco Ottini. E ora guardiamo insieme non solo moda. A più tardi.